Nelle ultime 24 ore la squadra mobile e la squadra volante della questura di Pescara sono state impegnate in un'operazione straordinaria di controllo del territorio che ha portato al sequestro di 534 grammi di eroina e all'arresto di due narcotrafficanti albanesi. Nell'ambito di un'altra operazione gli agenti delle volanti hanno invece arrestato quattro cittadini di Etnia Rom che sono stati bloccati ieri mentre tentavano di compiere un furto in casa di un anziano del quartiere di Pescara Nord. Si è trattato di quattro arresti che nascono dal contributo essenziale e determinante di un operatore delle volanti in quel momento fuori servizio in Borghese per i fatti propri che ha avuto quell'intuito, quella prontezza di riflessi di capire che qualcosa forse non stava andando. Ha osservato i movimenti di una macchina sospetta, ha allertato i colleghi della volante che sono rapidamente giunti sul posto e tutta questa sinergia, questo apporto di contributi fattivi ha permesso di arrestare in flagranza quattro soggetti che avevano tentato di consumare il furto in un'abitazione di via Montanara abitata da due persone anziane. Due persone anziane che erano cadute nel tranello di questi quattro che si erano spacciati per tecnici del gas. È ancora utile rilanciare forse un messaggio a tutti, siate diffidenti e se qualcosa non vi convince o che siate direttamente coinvolti in quella situazione o che da terzi, da esterni, stiate osservando qualcosa che accade al vostro vicino di casa, una telefonata alle forze dell'ordine può essere forse determinante. In un'altra operazione sono stati recuperati 534 grammi di eroina, arrestati due albanesi. Pescara è una piazza di spaccio, lo comprovano gli arresti operati in passato, la vigilanza è elevata e la squadra mobile ha fatto come sempre un ottimo lavoro riuscendo a sequestrare mezzo chilo di droga e a trarre in arresto due soggetti albanesi pronti forse a rimettere quella droga non appena lavorata su altre piazze di spaccio.